Oggi siamo a Caivano, ci troviamo precisamente presso l'auditorium di Caivano Arte in Via Necropoli. Importante appuntamento, primo festival del pomodoro, un evento organizzato dalla biologa e ricercatrice Paola Dama per rilanciare il prodotto campano da terra avvelenata a Campania Felix. Un importante evento, dicevamo, organizzato in collaborazione con il comune di Caivano e con vari enti e istituzioni. Seguiteci, andiamo a conoscere i protagonisti di questo importante evento a Caivano. Eccoci con il dottore Pasquale Crispino, presidente dell'Ordine degli Agronomi di Napoli. Presidente, grazie per la sua disponibilità, un bel evento qui a Caivano, si rilancia il prodotto locale da terra avvelenata a Campania Felix. Perfetto, questo è il tema centrale dell'evento. L'evento in realtà parte dal grande equivoco mediatico che è nato nel 2013 accusando la filiera del pomodoro come una filiera inquinata, mentre nei fatti sia tutte le analisi, circa 6.000 che sono state fatte, sia tutta la ricerca scientifica fatta in questi tre anni, hanno dimostrato che la filiera agricola è completamente estranea al problema inquinamento. Tutti i prodotti, dal pomodoro al peperone, alla zucchina, in tutto, sono risultati completamente indenne e perfettamente salubri. Quindi prodotti sani che possono arrivare sulle nostre tavole tranquillamente, non soltanto sulle nostre talma, di tutta l'Italia e di tutto il mondo. Ma in realtà il prodotto che sia stato etichettato come prodotto inquinato è passata questa informazione solo nel centro-sud. L'estero ha sempre continuato a importare il prodotto, la Germania, la Svizzera, la Gran Bretagna non si sono mai fermate perché loro hanno come obiettivo la valutazione della verità. Quindi loro hanno analizzato il prodotto, hanno accertato che il prodotto era perfettamente salubre e non si sono mai fermato con le importazioni. Qua è nato tutto per un equivoco su dei sequestri che poi nei fatti non erano fondati, nati sul fatto che le acque non rispettavano la 152, quanto poi in tutta Italia irrigano con acque molto inquinate. Noi qua abbiamo un'acqua che molto spesso è possibile imbottigliarla, ma la norma non ci consente di irrigare perché manca la legge sull'irrigazione. Da questo è nato, da questo è nato i sequestri dei pozzi dei terreni. Ad eccezione qua a Caivana abbiamo circa 650 mila metri quadrati di terreno sequestrato, dei quali circa 6 o 7 mila metri sono effettivamente una vecchia vasca di macerazione che negli anni 50-60 sono riempita di detriti. Ma negli anni 50-60 chiunque faceva un intervento di edilizio, i materiali dalle mattonelle a tutto. Il primo fosso che vedeva, diciamo in modo sbagliato, delinquento, la interrava, ma questa coscienza ecologista è nata per fortuna e giustamente solo pochi anni fa, ahimè. Tranquillizziamo un po' con noi, i nostri amici degli spettatori, i consumatori, questo prodotto che va consumato senza paura. Per assurdo il prodotto campano credo che attualmente sia il prodotto più controllato al mondo, dall'istituto zoprofilattico all'ASA, la Lega TNSS che fanno analisi a campione, quindi c'è da dire che su 6 mila analisi credo che oggi in Italia nessuno può vantare tante analisi in tre anni di campionamento. 6 mila analisi credo che siano state trovate due o tre campioni, ma per motivi vari, perché effettivamente stava vicino all'autostrada, quindi macchina al piombo, quindi eventualmente, ma del resto non hanno trovato nulla, nulla di nulla. Un allarme un poco esagerato, tra virgolette, se mi consente, Presidente. No, il problema è che si confonde, il problema è inquinamento, quindi il problema ambientale con la filiera agricola. In realtà non è detto che fuori il nostro stradone agricolo ci sono calcinacci, il prodotto che coltiviamo all'interno del campo sia inquinato, è brutto a vedersi, questo ci fa una cattiva pubblicità, ma non pregiudica nulla sulla bontessa e l'ubilità del prodotto. Io ho, ahimè, il comune che non interviene nella bonifica, ma i rifiuti stanno fuori il mio campo, non stanno all'interno. Quindi sono due discorsi separati, prodotto buono, bonifica e tutta un'altra cosa. Sì, giustamente. Noi su questo punto abbiamo presentato, l'ordine dei dottori agronomi ha collaborato con la quarta commissione terra dei fuochi regionale, abbiamo presentato appunto un disegno di legge che mi rappunta a definire chi sono effettivamente gli interlocutori per le bonifiche e abbiamo, all'articolo 10, presentato le tabelle per quanto riguarda i valori di fondo naturale, per le acque, per il terreno, per cercare un po' di fare chiarezza su questa cosa. Perché il problema è nato, ad esempio, a Caivano ha analizzato i terreni, dicevano che contenava beriglio A3, la norma diceva A2, ma analizzando tutta la campagna, la media è 4.8, quindi mi sembra assurdo che tutta la campagna sia... Presidente, grazie per la disponibilità, un messaggio che vogliamo lasciare ai nostri amici? Il messaggio è molto chiaro, i prodotti della nostra regione mai come adesso sono ipercontrollati e vi posso assicurare che sono perfettamente salubri, ma tutta la filiera, non solo i prodotti dell'agronapoletano casertano, quindi consumate, consumate locale che sicuramente sono prodotti sani e ipercontrollati. Allora, questa bella iniziativa qui a Caivano Art c'è anche l'Istituto Voltaire di Napoli, tanti studenti, tanti docenti che hanno collaborato anche a questo evento. Professore Alfonso D'Ultra, un evento importante per il raggiare i medi in Campania. Sì, salve, buonasera. È un evento dove noi, insieme ai nostri ragazzi dell'Istituto, non abbiamo fatto altro che preparare i prodotti tipici della nostra zona, la mozzarella, il pomodoro, basilico, le melanzane e le abbiamo presentate sotto forme sfiziose, non so, preparando delle coccinelle con i pomodorini, dei finger food con delle melanzane e la mozzarella. Comunque fanno parte della dieta mediterranea, sappiamo che tutti i nutrizionisti ne parlano tanto bene della nostra dieta. E' una dieta che funziona. Certo, certo. Professore, il Made in Campania, questa terra dei fuochi, noi vogliamo rilanciare un po' questi prodotti, i prodotti sani, controllati, non bisogna avere paura di consumare questi prodotti? No, assolutamente, non bisogna avere paura né di consumarli, altrettanto di tirarli su con le nostre agricolture. Io non perché voglio essere nazionalista, ma i nostri prodotti ce li invidia un po' tutto il mondo, quindi perché non pubblicizzarli in questo modo e con altre manifestazioni, quindi insomma. Il pomodoro San Marzano, la Civica, insomma, importanti ditte che hanno fatto la storia del prodotto campano, non soltanto campano, ma dell'Italia e del mondo interno. Ricordiamo il pomodoro San Marzano, la mozzarella Versana, qua a due passi da Caevano, insomma, voglio dire io. Sono tutti prodotti campani e ci devono far essere fieri del nostro territorio, insomma. Napoli stesso con la sua pasta asciutta, la pizza, insomma, il pomodoro in primo piano, quindi vorrei dire... Sono i prodotti quotidianamente utilizzati al Volterre, con tutti questi studenti, prodotti utilizzati ogni giorno? Sì, i nostri ragazzi nei nostri laboratori utilizzano i prodotti campani, anzi, oserei dire del nostro circondario, visto che l'istituto si trova a Secondigliano, quindi del nostro circondario, anche perché sono prodotti a chilometri zero, hanno un prezzo bassissimo rispetto a prodotti che vengono dall'estero e non hanno la nostra stessa qualità. Amici delle Capri, eccoci con l'ideatrice di questo importantissimo evento qui a Caevano Arte, Paola Dama, ricercatrice, biologa, già ricercatrice di oncologia molecolare presso l'Università dell'Ovaio e poi attualmente presso l'Università di Chicago. Grazie Paolo per la disponibilità, importante evento a Caevano, rilanciare il prodotto campano da Terra dei Fuocchi a Campania Felix. Esatto, questo evento è il riscatto della Campania Felix, vogliamo riportare la corretta informazione, vogliamo chiaramente informare i cittadini di quello che avviene sul territorio, quindi attraverso una precisa conoscenza del territorio, perché soltanto così si può fare una vera e propria opera di denuncia e di valorizzazione. Certamente, Terra dei Fuocchi, ci sono terreni avvelenati, ma ci sono moltissimi terreni con prodotti buoni come questi che abbiamo alle spalle, come prodotti che stanno agli stendi. Poi le vostre ricerche sono documentate, non sono parole all'aria come altri. Quando si parla di un dato scientifico non è uno scherzo, il dato scientifico è validato attraverso proprio dei metodi di autocontrollo del dato, quindi quando uno scienziato comunica da un comunicato su una questione è una questione validata, questi sono i termini esatti, attraverso un'osservazione. L'osservazione sul territorio campano è tale per cui abbiamo individuato dove esistono delle criticità, i territori non sono così disastrosi, disastrati, come vogliamo dire, rispetto all'inquinamento che è stato detto, ci sono effettivamente delle situazioni critiche dove si deve assolutamente intervenire. Con la bonifica? Parlare di bonifica bisogna sempre stare molto attenti, noi oggi faremo queste distinzioni e daremo anche una conoscenza precisa su quando si parla di bonifica, quando si parla di messa in sicurezza. Io denuncio qui il fenomeno dei rughi, il fenomeno dei rughi è qualcosa di scandaloso perché noi possiamo anche difendere la nostra agricoltura, possiamo dire che i prodotti sono buoni ma fin quando abbiamo un territorio massacrato da spazzatura e i rughi mi dispiace, non siamo credibili, questa è la questione. Questo evento è organizzato grazie alla collaborazione del Comune e di altri enti? È un evento assolutamente volontario, chiunque ha voluto partecipare e mi ha voluto seguire in questo progetto ha dato la sua opera volontariamente, quindi il Comune ha deciso di accettare il progetto, ci ha ospitato, l'ha promosso e con noi anche il Presidente dell'Ordine degli Agronomi, Pasquale Crispino, abbiamo avuto la consigliera comunale Maria Fusco che ci ha dato un'ottima mano e quindi voglio dire siamo tutti contenti oggi di poter lanciare questo messaggio, siamo uniti, finalmente uniti per questa campagna felice. La partecipazione di tanti cittadini ha dimostrato che è un evento molto sentito, un messaggio per i nostri amici telecambi. Allora io sono stata intervistata tempo fa dal nostro Antonio e io sono solo contenta di essere in Campania, purtroppo la devo lasciare presto ma ogni volta che torno porterò sempre il mio contributo. C'è una speranza che possa rinascere questa terra? Ma la terra è, noi non siamo morti, non dobbiamo rinascere. Non c'è l'informazione? Dell'informazione sì assolutamente, noi dobbiamo conoscere e dobbiamo essere adeguatamente informati per vivere il territorio e non sopravvivere nel territorio.